Ragazzoli, in queste partite, in queste partite, pesa! Pesa la tradizione vincente che ti porti in dote! Pesa! L'abbiamo visto in Siviglia Inter, dove da un lato c'era una squadra che negli ultimi 15 anni si era portata a casa già 5 coppe e con l'ultima, con quella vinta l'altro giorno, sono 6, stasera c'è un certo Bayern che negli ultimi 10 anni due Champions e quattro finali. Quattro finali negli ultimi 10 anni di Champions e nella massima competizione la competizione per eccellenza, il massimo, la creme della creme, pesa! E dall'altro lato il PSG, una squadra che arriva per la prima volta in finale in tutta la sua storia pesa, 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 la tradizione pesa, pesa, pesa ragazzuoli, pesa! Parto da allevarmi un sassolino o parto da complimentarmi con i vincitori? Partiamo sempre dai vincitori, partiamo da loro! Complimenti al Bayern perché è una squadra e si vince da squadra, il discorso è sempre questo si vince da squadra, sono tanti i giocatori che vanno assolutamente menzionati facile dire i soliti, facile dire i soliti, Newell, Lewandowski, possiamo parlare di Goresca, possiamo parlare di Neuer perché di Neuer possiamo parlarne da qui all'infinito possiamo parlare di Koeman, scelta che poi si è dimostrata vincente è alla faccia del cambiare squadra, cioè squadra che vince non si cambia mica tanto perché Koeman è una scelta invece che ha pagato che ha pagato ed era l'unico in ballottaggio però tra tutti questi citati vado a prendere un certo Kimmich perché forse nessuno se lo incula ma Kimmich, si è parlato tanto di Davis dall'altro lato ma Kimmich è un giocatore che dove lo metti ti fa la differenza non che dove lo metti ti fa bene dove lo metti ti fa la differenza questo può giocare a centrocampo, può giocare esterno sempre movimenti perfetti, sempre tempismo ottimale e qualità perché la palla che metta Koeman è di una qualità è di una eccellenza che ragazzi andatela a vedere che vi voglio lì, andatela a vedere vince la squadra che è più squadra semplicemente questa e vince la squadra che ha più tradizione vincente secondo me più che altro è questo in una partita comunque secondo me specialmente nel primo tempo ma anche nel secondo è equilibrata dove sono state le squadre che comunque hanno proposto calcio il PSG secondo me ha fatto bene e veniamo comunque allo stesso PSG allora, io voglio dire una cosa e mi riaffaccio sempre al discorso Siviglia-Inter Crocifisso Lukaku non me ne frega dai vari tra virgolette quelli che chiamano gufi o persone esterne che non apprezzano il calcio ma cercano solo di minimizzare i classici detrattori non mi interessa a me interessa quelli che dicono di tifare Inter e quindi seguono da vicino la squadra Inter Crocifisso Lukaku perché nonostante segni il gol nonostante lo strappo iniziale nonostante procurarsi rigore segni il gol lo realizza ma non basta perché poi poca poca roba allora e per questo motivo non è definito un buon giocatore poi che non piace non mi interessa non è definito un buon giocatore perché nel partito importante non c'è e allora dobbiamo fare una zoomata su un campione del mondo dobbiamo fare una zoomata su un campione del mondo campione del mondo francese un certo Clien Mbappé e dobbiamo zoomare su di lui perché se definiamo mediocre Lukaku o comunque non un buon giocatore cosa dobbiamo dire di Mbappé? cosa dobbiamo dire di Mbappé? cosa? per me è un giocatore stratosferico è premessa perché poi magari mi mettete in bocca cose che non per me è un giocatore stratosferico eppure per come la conteggiate voi ma non voi tu che magari mi state ascoltando che mi stai ascoltando ma in senso generico eppure Champions League fase eliminazione diretta sapete? ottavi quarti semifinali finale sapete quanti gol ha fatto? zero zero stasera stasera ha avuto l'occasione per aprire la partita per portarla in vantaggio rigore in movimento rigore in movimento rigore in movimento rigore in movimento addosso al portiere facile e facile rigore in movimento quindi Mbappé è un giocatore mediocre così giusto? secondo voi così perché perché non conta nulla conta solo quello che poi succede in finale giusto? giocatore mediocre Neymar idem perché nonostante faccia piovere e nevicare nonostante sei mini scompiglio ancora una volta Neymar oggi si è divorato un gol giusto? mediocre anche Neymar allora ma è così per molti funziona così per molti funziona così il calcio è un'altra cosa il calcio è un'altra cosa il calcio il calcio quello che si gioca 11 contro 11 in un campo rettangolare verde erba quello là è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa questo è il discorso è un'altra cosa detto ciò secondo me complimenti anche all'arbitraggio c'era un po' di di Italia in questa finale complimenti a aorsato mi è piaciuto l'arbitraggio si gioca quando si doveva giocare si gioca senza troppe moine senza troppe cazzate è sempre sorridente poi non lo so l'ha gestita l'ha gestita bene in qualche modo in qualche modo e quindi va bene lui niente complimenti ai vincitori ora posso dirlo io non ci azzecco mai i pronostici ma era la mia favorita pre-lockdown ho detto poi post-lockdown può succedere di tutto ma era la mia favorita e vince il Bayer dei Monaco complimenti perché questa è una squadra da urlo questa è una squadra da Champions un grande abbraccio Daneschi grazie a tutti Grazie a tutti.